accesso a gravità zero a 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 SINCRONIZZAZIONE SISTEMA DI PUNTAMENTO Calibrazione completata Puntamento automatico cannoni attivo SINCRONIZZAZIONE SISTEMA DI PUNTAMENTO Attenzione Integrità dello scafo vicina a soglia critica SINCRONIZZAZIONE SISTEMA DI PUNTAMENTO SINCRONIZZAZIONE SISTEMA SINCRONIZZAZIONE SISTEMA SINCRONIZZAZIONE SISTEMA Migrazione dati completata SDA ricalibrati SISTEMA DI PUNTAMENTO AUTOMATICO SINCRONIZZAZIONE SINCRONIZZAZIONE SISTEMA SINCRONIZZAZIONE SISTEMA SINCRONIZZAZIONE SISTEMA Uscita da gravità zero Uscita dal vuoto Isaac, Hammond, ho intercettato una trasmissione dall'infermeria Qualcuno laggiù? Vedete cosa farci Parla all'ufficiale medico Nicole Brand L'infermeria è un rifugio Sopravvissuti, venite qui Nicole, torno in infermeria Assenso Torno al ponte equipaggio e cerco superstiti, stiamo in contatto Il ponte equipaggio, forse sa qualcosa che noi non sappiamo Sopravvissuti, venite qui Sopravvi Grazie a tutti. 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 La domanda è come. Ma anche se chiedessi, immagino che... ...lei non sia molto loguace. E non ho ancora studiato appieno il ruolo della causa della morte come fattore mancante. Smembramento. Credo che lei sia... sulla pista giusta. Cerchi di rilassarsi, signor Clark. Clark, la convergenza è vicina. Forse la sua morte altererà l'equilibrio. Daniele, apri il laboratorio chimico. Cosa? Fallo e basta! Subito! È aperto, vai! Unito! 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 Isaac, la trasmissione di Nicole. Era una trappola di uno sporco unitorocista. Il dottor Mercer. Si è chiuso nell'infermeria per fare esperimenti sull'equipaggio. Gesù, non c'è via di uscita tranne passando da un ufficio. Quello di Mercer, credo. Posso violare le porte interne ma devi arrivare nel suo ufficio e rimuovere il blocco manualmente.